...in modo che funzionassero, quindi per esempio il fatto dei sette anni per ogni ora, perché l'attrazione gravitazionale di questo pianeta... Cioè lei è più giovane di quando è partita, lo sai, di qualche millesimo di secondo... No, non è che sono più giovane di quando sono partita, sono più giovane di quello che sarai stata in questa partita, ma parliamo di millisecondi... Però io non capisco nemmeno come si accende la ponte, io non capisco nemmeno perché si accende la lampadina... Senti, ritorniamo a Foremanian, che per l'appunto c'è un cameo naturalmente, eh?